Buongiorno a tutti, siamo Filippo Sangoniti e Caterina Cuppari di Buena Onda Tango. La nostra scuola è a Cinisello Basso, una provincia di Milano. Ci fa piacere essere qua oggi. Vedremo un altro movimento base del tango argentino, che è la salita basica. Quindi è una delle prime figure che si sono costruite del tango argentino che si compone di otto movimenti specifici. La cosa particolare delle salidas è che hanno il movimento di incrocio per la ballerina per recuperare la frontalità. A differenza di quello che abbiamo visto con il quadrato e con la baldosa, è un movimento che si sviluppa più in lunghezza. È composto da un passo indietro per l'uomo, sempre con la gamba destra, un'apertura con la gamba sinistra, cammino sempre in esterno. A differenza del quadrato, quindi, invece di prendere la linea della ballerina, rimango in esterno in modo tale che sia la ballerina a riportarsi frontale rispetto alla ballerina di basso facendo un incrocio. Quando la ballerina incrocia, unisco, cambio peso, vado avanti, vado all'altro e ho finito il mio movimento, quindi, se vediamo non nel dettaglio. Passo indietro con la gamba destra, l'apertura dissociata, sempre con il quadrato, passo in esterno con la gamba destra. Adesso la mia gamba sinistra non rientra più, rimango sulla mia linea, vado all'appoggiare generando un incrocio per la ballerina. Quando la ballerina cambia piede, cambio peso, vado avanti, vado all'alto e chiudo. Quindi, quando vado a fare i miei movimenti, passo dietro con la gamba destra, all'alto con la sinistra, vado bene in esterno con la gamba destra, rimango in esterno dissociando la gamba sinistra. Quando la ballerina incrocia, porto il peso della gamba sinistra alla gamba destra, vado avanti con la gamba sinistra, all'alto e chiudo. Per la ballerina, un passo avanti sempre di sinistro, un passo al lato di destro, vado indietro di sinistro, vado indietro di destro e porto la sinistra a incrociare davanti alla destra. Spingo bene a terra con il piede sinistro e ritorno indietro di destro, sinistro e chiudo. Ancora una volta. Indietro di sinistro, apertura di destro. Indietro di sinistro, in apertura di destro, incrocio e indietro a lato e chiudo. Quindi, visto sulla linea frontale, per noi uomini, il movimento è fatto. Passo indietro con la gamba destra, passo all'alto con la gamba sinistra, ricordatevi la dissociazione, anche perché adesso vedrete che la dissociazione serve, quando vado avanti con la gamba destra, per generare l'incrocio della ballerina mentre porto avanti la gamba sinistra. Unisco, cambio peso, avanti con la sinistra, a lato con la destra e chiudo. Per la ballerina. Avanti con la gamba sinistra, a lato con la gamba destra, indietro di sinistro, indietro di destro, porto l'incrocio, cerco di portarlo ben vicino alla gamba destra, libero la sinistra e vado indietro, a lato e chiudo. Ancora avanti di sinistro, a lato di destro, indietro, indietro, porto il peso sulla sinistra, libero la destra e vado indietro, a lato e chiudo. Con l'abbraccio chiuso. Aggiungiamo una cosa importante a livello conoscitivo, La salita basica si sviluppa quindi su otto passi con un incrocio della ballerina al quinto passo della salita. Noi normalmente la spieghiamo in modo leggermente differente rispetto a dare un numero ai passi, però per essere più trasparenti e universali possibili nelle spiegazioni e nell'apprendimento c'è anche questa forma di spiegare la salita, che quindi viene articolata in otto passi. Uno, due, tre, quattro, incrocio il cinque, sei, sette, otto. Quindi quando sentite parlare anche della salita in otto passi, si stanno riferendo a questa sequenza di passi e movimenti. Quindi io e Caterina vi ringraziamo per tutte le informazioni, potete contattarci attraverso mail, segreteria, piocciolacaterinacupari.com o andare sul sito www.buenondatango.it Grazie a tutti! Un abbraccio, buon tango! Grazie a tutti!